questo lo ha voluto proprio fortemente questa infermiera tutti i medici hanno voluto che perché avevano saputo che in questi giorni avrebbero celebrato 50 anni di matrimonio insieme e nonostante intubati con le maschere ecco con questa vita che lotta tra la vita e la morte hanno avuto la possibilità di tenersi mano nella mano e questa infermiera anche cantato per loro suonato anche per loro la marcia nuziale ecco questo credo voglia può significare davvero può essere un esempio di che cosa voglia dire oggi l'evangelista giovanni a noi quando ci dice che chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita credo che questa infermiera abbia davvero obbedito alla voce del signore che ha reso capace questa donna di vedere in questo momento così di contingenza di ecco di chiamiamola anche di tristezza di vedere la luce e di poter fare in modo che queste persone che questa coppia potesse celebrare la vita sempre la vita di vedere sempre la vita ecco l'augurio che faccio a me e a ciascuno di noi di poter vedere sempre la vita anche quando sembra che le tenebre la vogliano attanagliare o offuscare o signore donaci il coraggio di affrontare la prova la prova della croce dopo la tua risurrezione dopo che tu l'hai abbracciata volontariamente la croce è diventata una scala che ha messo finalmente in comunicazione il cielo e la terra nella croce illuminata dalla tua risurrezione saremo capaci di obbedire alla tua voce daremo ascolto a tutta quella vita che viene dall'alto e che vive nelle cose di questa terra donaci di capire quanta vita c'è insieme a te grazie 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 grazie